e che è successo oh scena venuta a piantare grane prima i pianifichi e all'improvviso in questa città impazziscono tutti lascio i sottotitoli signori no no c'è il boss finale fermi tutti fermi no 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 ma che di che cazzo stiamo parlando no 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 fermi fermi sì vabbè dai ma lui c'ha tutta la tribuna dal suo lato dai non ho più bombe c'è ora c'ho le moto potete un po di fuoco la porca no 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 riusciamo siamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo morti male signori siamo morti male diamo un attimo di fuoco un poco a tutti diamo le armi occhio qui al tizio ok gli abbiamo dato fuoco ma è molto poco rispetto a quello che qui li potremmo dare mi dai la pistolona qui dai lui che tira le bombe mannaggia a te mannaggia a te mannaggia a te tira tira guarda 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 a mente resta bello ti mannaggia a te ma chi ti conosce a te non ti voglio a te tira sparali sparali basta occhio che sta arrivando un altro colcoso quanta vita c'ha questa porca miseria che mi ha tirato dai così tira una bella bomba non serve a niente quella bomba però abbiamo preso il tizio no siamo morti male siamo morti malissimo siamo morti malissimo signori siamo morti malissimo dai così dai così dai così è partito a razzo non ci ho capito nulla ok ha avuto 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 no no brutto bastardo vieni qua sopra se coraggio dai dai ti aspetto qua ti aspetto qua dai 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 ah non sali qui non sali qui non sali qui dai no dai però non mi può sparare mentre c'è il tizio che lo aiuta allora questa pistoletta fa schifo allora a te ti diamo fuoco diamo fuoco anche a lui a posto così mi piace così mi piace bello infuocato così mi piace così mi piace dai che ti diamo fuoco come se non ci fosse un domani però però aspettate aspettate stiamo un attimo le bombe no le bombe no mannaggia a te mannaggia a te mannaggia girati vini porca miseria questo gli diamo fuoco pure così lui è salito qui e gli diamo fuoco mentre lui sta a caricare però così non gli famo niente signori diamogli le pistolettate giuste diamogli le pistolettate giuste no col fucile a pompa bastardo dai ma non ce l'ho un caffè io da potermi prendere no non ce l'ho un caffettino da potermi prendere perché la musichetta siciliana la musichetta siciliana dai così spara 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 ma porca mi serve un caffettino un caffettino mi serve un caffettino c'è sto cazzolo di fucile a pompa va bene vuole il fucile a pompa avrà il suo bel fucile a pompa anche lui no ma la smetti di te la bombe come siamo morti ma porca miseria ma porca miseria no partiamo malissimo partiamo malissimo dammi il fucile a pompa dai scendi no no bastardo dai scendi 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 che ti prendo pure al calcio animale aia non gli stiamo praticamente facendo niente soprattutto al tizio no no levati mannaggia te levati no occhio alle bombe occhio alle bombe la vedo molto complicata sta situazione e dai vini mannaggia di una miseria sta carica sempre quando non devi caricare siamo morti signori se non trovo un caffè nelle vicine un caffè un caffè un caffè un caffè caffettino per noi calma 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 allora noi non abbiamo più armi ah questa l'hai sentita quindi ci vediamo a colpi di elevati mannaggiatte dai 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 vini dai vini che ci siamo dai vini che ci siamo ultimo colpo ultimo colpo ultimo colpo vini no si l'abbiamo preso è morto è andato mamma mia no mamma che violenza era più intelligente di quello che pensavo mamma che violenza non c'è di che capiscono che cosa li ha colpiti guarda per me chi sei tu? il nome è Vinny tu puoi pensare che tu sei morto Mr. Bull tu puoi pensare che tu sei morto per me per salvare il tuo cuore ma prima voglio sapere perché sei così importante che mi fa andare a fare i cittadini per arrivare il suo posto vivo è abbastanza ovvio vedi c'è solo un modo per arrivare fuori questa città e questo è... il suo posto come si è morto che è morto con l'acqua con l'acqua che cosa stai il suo posto e l'acqua il suo posto il suo posto e gli uomini che si sono chi è il suo posto la tua che è il suo posto il tuo posto la tua scrive lo L'armi ha costruito una fortuna sull'arrivo, è sicuro che tutti che cercano di abbracciare il perimetro, zombie o non, hanno anche l'arrivo con dynamite. Oh sì, vediamo di questo. Abbiamo di crossare l'arrivo e se non sono parte della soluzione, sono parte del problema. Abbiamo anche le uccelli, vabbè, andiamo. Ora dobbiamo raggiungere un dirigibile e scappare da questa città per tornare dal boss capo, praticamente. Detto questo, signori, io vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genitori e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!